Come risolvere così i problemi riguardo a BlackMeet Wukong, riguardo a CaseyBlog durante la compilazione degli shader quindi in questo caso ti ho lasciato in descrizione anche la pagina di BlackMeet Wukong direttamente sul suo supporto quindi in questo caso se hai ricevuto dei problemi sul processore Intel puoi semplicemente aggiornare così il tuo puoi scaricare così questo driver e installarlo sul tuo computer compatibile con le versioni Windows 11, 23H2 e Windows 10, 22H2 quindi tu puoi scaricare, installare e riavviare il tuo sistema e vedere se ha smesso così con quei blocchi della shader o dei blocchi proprio in generale sul gioco attraverso questa CPU Intel T13, 13esima e 14esima generazione che può avere anche problemi riguardo alla memoria video esaurita quindi in questo caso se hai ricevuto invece un problema su AMD, AMD Ryder RX 7900 XTX driver precedenti clicca qua sopra direttamente ti porterà sulla pagina per scaricare così i driver e i software per la tua scheda grafica oppure puoi semplicemente andare direttamente su AMD driver download ed eccoli qua e qua vai a scegliere così il tuo prodotto processore, scheda grafica, chipset cerchi qua scarichi e installi così il tuo driver se scendiamo fino a giù ci sono anche i consigli sulle schede grafiche Nvidia GeForce RTX serie 40 quindi in questo caso possiamo andare direttamente su grafica impostazioni grafica impostazioni grafica andiamo direttamente a mettere sfoglia vai così a prendere l'applicazione .exe nella sua cartella black meat wukong e fai aggiungi l'applicazione è stata già aggiunta io l'avevo già aggiunta quindi qua sopra opzioni prestazioni elevate e fai salvo una volta fatto se hai ricevuto anche i problemi ai driver obsoleti puoi direttamente aggiornare i driver della tua scheda grafica attraverso il programma nvidia app beta ti ho lasciato così in descrizione la pagina per nvidia app scarichi e installi così la versione beta vai direttamente su driver ed ecco lì qua c'è anche un aggiornamento per black meat wukong che hanno lasciato proprio quando è uscito il gioco game ready quindi black meat wukong per il full ray tracing e dls s3 cerchi così l'aggiornamento da fare e lo installi poi in ogni caso se hai ricevuto anche dei problemi riguardo ai caricamenti shader tipo per esempio se lo tieni sull'hard disk può avere più problemi soprattutto alle prestazioni quindi ti consiglio di installarlo su un ssd o aspettare delle offerte e vedere se riesci a prendere un ssd per installare così i due giochi una volta fatto non ti resta che fare anche una verifica sul gioco quindi se lo tieni su epic games basta che vai sui tre puntini nella libreria e fai verifica e su steam invece basta che vai direttamente sulla rotella qua proprietà su generale e c'è scritto verifica integrità dei file una volta fatto assicurati anche di aggiornare così i driver del tuo sistema windows quindi in questo caso windows update verifica disponibilità aggiornamenti quindi una volta scaricato tutti questi driver e fatto anche la verifica riavvia il computer quindi in questo caso ti lascio anche questa pagina in descrizione per controllare sempre i nuovi aggiornamenti sul supporto di black meat wukong e non avere più problemi quindi aggiorna sempre i driver del tuo processore scheda grafica i driver di windows e quindi noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao